È il momento di iniziare l'esperimento delle caramelle. Ultimi dettagli sono a posto, diamo il via allo spettacolo. Dobbiamo solo inserire la password di lancio. Ehi, gente, scrivete un commento, volete o no, che ti avvita Candy Princess. Ma lo state davvero chiedendo? Certo che sì! Facciamo in modo che accada, Alice e Pallo! Sembra che ci siano problemi, signor Bones. Qualcuno ha deciso che non vuole rispettare le regole. Grande errore! Niente dolci durante il mio turno. Pensa al tuo comportamento in isolamento. Vai, forza! Alice, Pallo! Ho capito, facciamolo! Iniziamo l'esperimento. Sono così nervoso, speriamo che ce la faccia. Ma che succede? Chi ha deciso di organizzare una festa in discoteca? Ora basta! Oh, sto per avere un episodio di epilessia. Lasciate libera la pista da ballo. L'esperimento di Alice avrà successo. Restate sintonizzati per scoprirlo. Wow, ora sono viva! C'è molto fumo qui dentro! Non riesco a vedere nulla! Ehi, ma che diavolo succede? Sembra che la mia pretezza stia causando un po' troppa tensione. Perché ti avvicini furtivamente? Chi è il più figo adesso? Credo di sapere che sta succedendo. Vieni con me! Inizia la caccia! Andiamo in cantina! Non posso crederci! Sono nel mondo reale! È così bello qui! Oh, ciao! Mi hai creata tu? Sì, io sono Alice! E ti voglio bene! Ops, scusa! Piacere di conoscerti, Alice! Oh, è lo stesso per me! Sono una tua fan! Siete in arresto! Riprendiamoci le luci! Hai il diritto di dire che sono figo! Oh, sei figo! E tu anche mi piaci! Oh! Avrei potuto fare l'elettricista! Ma a quanto pare non per molto! Stai bene? Le luci sono tornate! Com'è bello qui! Oh, così tanto! Dai! Aspetta, ripartami il ventaglio! Non ho fatto niente! Questo lo vedremo presto! Resta qui! Princess Candy, aiutami! Puoi tagliermi queste manette? Vediamo! Oh, ho un'idea! Wow! Come hai fatto! Grazie! Sono sempre felice di aiutare! Basta chiacchiere! Ora mettetevi lì al centro! Perché? Che problema c'è, agente? Ma hai delle ciambelle tra le mani! Questo non va bene! Niente dolci durante il mio turno! Dovrò confiscarle! Ah, mai più! Questa è discriminazione nei confronti dei dolci! Ma come è possibile? Ora vi controllerò con il mio scanner per caramelle! Presa! Vediamo la tua scorta! Le mie caramelle! Mi mancheranno! Fate buon viaggio! E ora continuiamo! Non potrai nasconderle da me! Dammele! Prendile! Stanno pissando la mia anima! Ti lascio da solo per un minuto! Deliziose! Continuiamo l'ispezione! Tu sei la prossima! Santo cielo! Il mio scanner sta impazzendo! Taylor, dove sei? Non vedo niente! Oh, Taylor! Ops, scusa! È colpa mia! Dov'è Alice? Oh, l'ho vista! Adoro i marshmallow! Miei cari! Vi sono mancata? Vuoi qualche dolcetto? Non voglio, bustarelle! Riporterò queste caramelle alla base! Lasciamene almeno una! Le mie belle caramelle! Perché? Il caso è chiuso! È ora di rinchiuderti! Andiamo! Mi lamenterò con i miei avvocati! Però manca qualcosa! Non sono solo un oggetto di scena! Sono una persona! Oh, tutti questi corsi di design non sono stativani! Oh, no! Questo è il tipo di lavoro che mi piace! Mi hanno incastrato! Bel vestito! Ti sta bene! Mi fa sembrare più grassa! Ottimo lavoro, sergente Taylor! Sei molto in porba! Questo posto è orribile! È tutto così grigio e tetro! Cercherò di dormire un po' almeno! Potrò pianificare una fuga domani! E il mio spazio personale è solo uno scherzo per voi! Scusami! Andrò a dormire al piano di sotto! Sembra che i poliziotti non guardino! La mia ultima caramella! Buon divertimento! Mi chiedo come stia Candy Princess! Speriamo se la cavi meglio di me! Chi ha ordinato la consegna di cibo a domicilio? Un attimo! Ti ho già visto da qualche parte! È buono solo finché è caldo! Oh, wow! Crocchette fresche e croccanti! Le adoro! Ehi! Questo è il mio ordine! No, non è il tuo! Sì, è il mio! Beh, ok! Allora lo condivido! Ciao, Alice! Ma io non ho ordinato cibo! Questo è un errore! Sono io! Non mi ha riconosciuta! E adesso? Un volto familiare! Sì, esatto! E ora? Princess Candy! Sei tu! È ora che tu te ne vada! Questo è un semplice trucchetto! Ecco! Apriti, Sesamo! Ma è un po' cupo qui! Piegati! Così i poliziotti non ti vedranno! Oh, seguimi! Ops! Che c'è laggiù? Te lo dico di nuovo! Quelle pepite sono le mie! Non prenderne un'altra finché io non finisco questa! Che schifo! Sono così buone! Sono dolci! Non ho mai mangiato niente di più buono in vita mia! Ne voglio ancora! Ancora! Prendile tutte! Io non le voglio! Siamo aperti! C'è qualche posto vacante per un cuoco? Oh, ne abbiamo bisogno! La porta della cella è aperta! Ehi, ma dov'è quell'altra? Che vuoi dire? Presto! Mentre è impegnato a mangiare! Ogni boccone si scioglie letteralmente in bocca! Oh, davvero! Ma ce n'era un'altra qui! Allora trovala! È ora di andare! Non mi è permesso stare qui! Giusto! Non è permesso! Ora possiamo rimetterci al lavoro! Taylor, riavviamolo! Eccomi qua! È ora di andare al lavoro! Io ho aggiunto un po' di cannella! Cannella? Giusto! Lo sento questo aroma! E un po' di zucchero a velo! Zucchero a velo! Molto molto originale! Ecco la tuta della prigione! Tieni! Ma non le do una affatto! Dalla Bons! C'è un numero qui! Devo solo prendere il telefono e fare una chiamata! Signor Bons! Dio! Ed ecco il telefono! Sono il re del freestyle! Sì, è vero! E ora pubblichiamo il tuo primo album rap, amico! Oh! Non ti avvicinare! Molto spaventoso! Ma che succede se lo faccio? Strega delle caramelle! Sei ancora più bello così! Toglimi subito questa cosa di dosso! Ora è qui! Va bene, non muoverti! Non muoverti! Ho detto che penserò a qualcosa! Gioco di prestigio e niente imbrogli! È ora di fare una chiamata! Sono così bravo! Oh! Una consegna di caramelle! Kane, ho bisogno di te! Sono in prigione! Salvami! Vorrei dire che consegneremo in prigione! Nessun problema! Torniamo al lavoro! Oh, braccio! Sbrigati! Non ho più tempo! Useremo il nostro metodo di consegna rapida! Le consegne di Kane sono sempre puntuali! Che pasticcio appiccicoso! Peccato che Mike non sia qui! L'avrebbe mangiato in un attimo! Dov'è il mio telefono? Truffatrice al zucchero! Ridammele subito! Prettilo! Non così! Oh no! Che schifo! È disgustoso! Devo trattenere il respiro! Forza, Taylor! Puoi farcela! Caramelle? Perché? Mi toccano sempre i lavori più sparchi! Kane! Ti ho chiesto di salvarmi! Non di mandarmi dei dolci! Ho capito! Che c'è che non va in lui? Era il mio telefono! È tutta colpa tua! È tutta colpa di Kane! Troverà un modo per punirti! Aspetta! Ma certo! Il mio piccolo capolavoro è pronto! Chi è il primo che vuole assaggiare? Che sta succedendo qui? Sono una principessa! Ora sono io la principessa! Nessuno che vuole lavorare! Ci penserò io! Oh! Sei qui! Sono stata convocata per una degustazione di dolci! Sì sì! Per favore entra! Ecco la mia creazione! La proverò subito! Questa è la migliore che abbia mai mangiato in vita sua! Non ha un bel aspetto! E l'odore non è molto gradevole! Non lo so! Per quanto riguarda il gusto... Mmm! È squisito! È così delizioso! È un vero capolavoro! Davvero? Lo pensi davvero? Questo è d'Oscar! Chi ti ha dato la ricetta? La detenuta! Quella lì! Sto a dieta! No no! Lei! Lei! Sono io! Sei un genio! Ti sopplico! Scrivi questa ricetta per me! Ti imploro! No no no! Questa ricetta è un segreto! Allora non entrerai nel Guinness dei primati! Ma quello è il mio sogno da sempre! Dammelo! Li venderò e diventerà ricca! Ehi là! Ma chi è quella? Questa è la mia occasione! Proviamo di nuovo! Kane! Aiutami per favore! Questa volta però senza caramelle! Sono il signor denti bianchi perlati! Aiutatemi! Firmato Princess Candy! Ha bisogno di aiuto! So io che le ho mandato delle caramelle! Ho sbagliato! Devo risolvere subito questa situazione! Andiamo! Sono qui? Perché nessuno mi saluta? Principessa Candy! Dove sei? Ti vedo! Kane! Sei qui per salvarmi! Evviva! Il circo ha bisogno di te per prosperare! Oh! Portami a casa! Princess Candy! Ho ricevuto un premio! Taylor! Alzati! Dov'è la principessa? Sarà tornata al circo? È stato spiacevole conoscervi! Vi auguro ogni bene! Ah! Siediti! Il cecchino Taylor sta sparando! Che è successo? Perché sono ancora qui? Ottimo lavoro, partner! Ecco la mia bacchetta! È ora di andare a casa! Ciò che è caduto è perduto! Che sta succedendo qui? Non così in fretta, amico! Mettiti camodo! Come usate? Bene! Ora abbiamo le prove! Fammi fare un paio di trucchi! Giù le mani! Questa è una prova fisica! Lasciala stare! Non toccarla! Vai invece a prendere il nostro fugitivo! Ho sempre questo lavoro sporco! Smettila di lamentarti, ok? Controlliamo il sistema di sicurezza! Tutti fermi! Tutti a terra! Cowabunga! Mike, sei tu! Il sistema di sicurezza funziona! Taylor, come va? Ho un affare puzzolente! È insopportabile! Ora sto molto meglio! Hai sentito quel rumore là fuori? Libera Kane! Libera Kane! Basta, poliziotti! Non abbiamo bisogno di questo! Andiamo fuori e spieghiamo le nostre ragioni! Ehi, sto morando di fame! Dov'è il cibo? Prendiamo subito del cibo! Kane, libero! Vergogna, poliziotti! C'è stato un malinteso! Sono loro! Vergognatevi! Ora vi faremo vedere! Per favore, non c'è bisogno! Possiamo spiegare tutto! Oh, chiudi la porta! Sì, sembra che le negoziazioni siano andate male! Beh, da che l'hai capito? Grazie a tutti! Era delizioso! Sembra che io sia pieno per un anno intero! Sembra che ora ti serva questo! Eh, no! Forse questo! No, no! Niente spazzolini! Odio lavarmi i denti! Oh, sì! La clinica del dottor Taylor è aperta! Oh, non me li lavo questi denti! Ehi, dentone! Te li puliremo noi! Questi sono i tuoi denti al cioccolato! E questa è l'anestesia che ti inietteremo prima di lavarli! Hai detto iniettare? Sì! Iniettare! Iniettare! No iniezioni, per favore! No iniezioni! E ora... Pulizia dei denti! Ecco come puliremo i tuoi denti finché non saranno lucidi! Ecco qua! Allora ti piace! Anche a me è venuta un po' di paura! Datemi quello spazzolino! Mi lavo subito i denti! Un po' qui e un po' qui! Ottima idea, partner! Sì, sto andando a fuoco! Oh no! Odio pulire! Tutto fatto! Sembra non ci sia più cioccolato! Questa è una carie! Non preoccuparti, Kane! La clinica del dottor Taylor è sempre aperta per te! Vieni pure! Non avvicinarsi! Ti avverto che... Opporrò resistenza! Non mi trapanare i denti! Per favore! Qualcuno ha un po' sfortunato! Non venire così vicino! Uh! Quasi fatto! Ma che cos'è? Dove sono? I miei denti! Il dottor Taylor ha fatto il suo lavoro! Oh, guarda un po'! Denti bellissimi e bianchissimi! Che ne dici di qualche dolce? No! Va bene, va bene! Ti porterò del cibo adeguato! Dai, Mike! Questa è la mia occasione per mettere in atto un paio di trucchetti! Cosa? Shhh! Che succede qui? Taylor, va tutto bene? Oh, ehi! Mike, è ora di innaffiare le piante! Sei un campione, l'impiegato del mese! Oh sì! Torniamo ai trucchi! Come faccio a tirarlo fuori da lui? Oh, ma certo! Che genio che sono! Proviamo così! Ho funzionato! Oh, bacchetta magica! Ora sono il tuo maestro! Proviamo! Bam! Fantastico! Ora posso trasformare qualsiasi cosa in giocattoli! Chi è il prossimo? Bam! Ehi, basta! Questo non è un gioco! Rimetti la bacchetta al suo posto! Oh sì, sognatelo pure! Ora sono Harry Potter! Bam! Va bene, il nostro poliziotto ha perso la testa! Magia! Kane, ti piacciono i giocattoli? Bam! Mettila! I piatti da vina sono pronti! Oh, che succede? Oh, no! Ehi, ma che hai fatto? Ridammi Mike! Partner, non preoccuparti! Ti riporterò indietro! Bam! Forza! Bam! Oh, sembra che il nostro Ken abbia bisogno di una Barbie! Oh, 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 oh! Te la sei cercata, Dentone! Aspetta un attimo! Passo a aiutarti! Dammi la bacchetta e farà tornare indietro il tuo amico! Dici sul serio? Ok! Va bene! Prendila! Fallo tornare come era prima! Attenzione! Poco! Credo di essere stato bravo! Devo ammettere che mi piacete molto di più così! Stendetevi per un po' qui! E ora riportiamo le cose alle loro dimensioni! Il vostro look è un po' datato, amici! Troppo trendy! Riproviamo! Inquietante! Questo è quello che serve! Ma che è successo? Dove siamo? Benvenuti nel mio circo! Quelle orecchie ti stanno bene, però... Orecchie? Quali orecchie? Ehi, Dentone! Ridammi le mie orecchie! Concentratevi! Scambiatevi di posto, signor poliziotti! Vediamo come sono vestito! Oh no! Se il capo mi vede così, mi licenzierà, è ovvio! Kane cambia immediatamente tutto! Sono un ufficiale delle forze dell'ordine! Devi obbedirmi! Colpo di cecchino Taylor! Questa si chiama magia! Kane e il Grimtooth! Smettete subito di ridere di me! Ora basta! Questo è un aggiornamento! Silenzio, ho detto! Ora verrà sicuramente licenziato! Grazie per l'aiuto, Taylor! Ehi, ti avevo avvertito! Beh, che giornata! Recuperiamo i nostri bianchi perlati! Ho finito! Vado a letto! È l'indagine! Chi ha preso il mio posto? Stavo sognando delle briciole di pane! Scusami per il mio collega! Ora sistemo tutto! Ecco! Ora va molto meglio! Mettiti a dormire! Nessuno ti disturberà più! Oh, imbarazzante! Oh! Buongiorno! Oh sì! Non è migliore di una qualunque giornata lavorativa! Quando si pranza? Ehi, Mike! Quando ci saranno gli incontri di box qui? Smettila! Ora basta colpirmi! Basta, ho detto! Prendi questo! Gancio destro! Gancio sinistro! E questo! Oh, non è giusto! Non ero preparato per questo incontro! Ah, questi nove liti! Baffuto! Ti prenderà! Dove sei? Vieni fuori! Ti troverò! Grazie al tuo odore! Attivo la modalità da cacciatore! Kane, sei bellissimo oggi! Ora sembro un poliziotto! Un altro piccolo dettaglio! Fantastico! Passo di nuovo a lavorare! Anch'io sto a una crema! Signori detenuti! Avete fatto un terribile pasticcio nella cella? Oh, che puzza! È ora di ripulire tutto quanto! Velocemente! Forza, forza, forza! Tutto dovrà brillare! Ancora una volta mi tocca il lavoro sparto! Che c'è qua giù? Che puzza! Oh, la nausea! Ehi! Ho appena lavato il mio vestito! Sono felice di vederti, ma ti servirebbe una doccia? Sì, d'accordo! L'odore non è il massimo! Non capisco perché indossa il mio vestito! È solo un malinteso! È tutta colpa di Mike, non è mia! Ehi, dobbiamo lavorare insieme! Siamo partner! Questo posto è una discarica! Credo di avere un piano! Ehi, dente di merluzzo! Dirò a tutti del tuo dente nero! Prendi questo! I miei denti sono tutti bianchi come perli! Rilascia, ti è stato un incidente! Prendi questo! Non stavolta! Non ho capito! Che è successo? Ehi, fratello! Sembra che tu abbia dei problemi! Non sono tuo fratello! E allora chi sei, mia sorella? Ho capito! Ora anch'io ti mostrerò un trucchetto! Torna indietro! Ora tocca a te! Che stai facendo? Ai, ai, ai! Aiuto! Caso chiuso! Ora tu sarai l'impiegato del mese! L'impiegato del mese? Siamo stati qui troppo a lungo! È ora di tornare indietro! Ho un profumo così buono ora! Ops! Dov'è Kane? Aveva delle questioni urgenti da sbrigare! Abbiamo un paio di domande per te a proposito! Voglio sapere tutti i dettagli! Quali dettagli? Taylor, così la accecherai! Mi dispiace, l'agente Simmons può essere un po' duro! Accecarla? È una buona idea! Oh, fermati! Mettiti questi occhiali, sarà meglio! Grazie! Oh, ti stanno bene! E ora sputa il raspo! Che poliziotto cattivo! È incorregibile! E il mio megapono! Beh, se la metti così... Non parlo! Mh, ho la fragola! Andiamo, Pommy! Dobbiamo fare un paio di foto per il dossier! Gnom, gnom, gnom! Ora stai ferma e tieni questo! Togliamo gli occhiali! E ora facciamo un servizio fotogrammico! Oh! Lo so, è il flash! Ma abbia un po' di pazienza! Sì, ancora una! Ecco, le foto sono pronte! La prigioniera deve indossare un uniforme! Eccola! Ehi! Io odio il nero! E non rinuncio al mio cappello! Pessima idea! Di addio al tuo vestito preferito! Ci siamo! Che brutto! Fatto! Vuoi un prullato di costume fresco? Ti insegnerà a resistere alla legge! Perché l'ha fatto? Pommy, non prendertela! Ho un'idea molto fashion! Dammi solo un minuto! Sapevo che il mio diploma da certo sarebbe tornato utile! Sistemiamo il vestito! I fili sono qui! Facciamolo! Non è una prigione! È una camera di tortura! Fatto! Guarda qua! Penso che ti starà ancora meglio! Oh! Che bella! Ti piace? È bellissima! È solo che... Cos'è questa puzza? Oh! Puzza tantissimo! Beh, non l'abbiamo più lavata dopo Huggy Wuggy! Prendi questa molletta! Oh! Ora va meglio! Grazie! Fantastico! E ora aggiorniamo la foto! Dovresti proprio togliere quella molletta! No! Bene! Sorridi! Oh! Meravigliosa! Bene! Benvenuta nella tua cella! Vieni! Ti faccio fare un giro! Entra pure! Oh, mammina! Oh! Non c'è bisogno di avere paura! Lui è Mr. Chubby! È qui da un po' di tempo! È un attimo amico! Ciao, signorina! Oh! È un gentiluomo come sempre! Quello al tuo letto! Solo un attimo! Ecco la tua biancheria! Lenzuola pulita e stirata! Me ne sono assicurato! È ora di riposare! Ok! Sono davvero stanca! Ti senti a tuo agio? Sì, grazie! Ho comprato una lucetta notturna, così non avrai paura! E ora una storia della buonanotte! C'era una volta una ladybug! La notte è passata tranquillamente! Direi persino noiosa! Perché non iniziare la mattinata con un piccolo scherzetto? Allarme! Che significa? Buongiorno! Avresti dovuto vedere la tua faccia! Non è divertente! Ehi, dov'è la mia bella tuta? Non sto sbirciando! È rimasto solo questo! Non è possibile! Che succede? Cioppia è di nuovo inondato di lacrime la stazione! Oh, giusto! Il sistema di allarme! Ora va meglio! Non spaventarmi più! Pommi! Ho lavato la tua tuta e ora senti pop-corn! Profuma di circo! Taylor, ti ho detto di non giocare con l'allarme! Oh, cosa? Accendi! Spegni! Accendi! Spegni! Fermi! L'edificio è circondato! Preso! Lo sapevo! Eccolo lì l'interruttore! Oh, oh! Sei stato beccato! Wow! Beh, ti avevo avvertito! Sei in grossi guai, amico! Ragazzi, era un falso allarme! Stiamo bene! Era uno scherzo! La prossima volta non parlo mai più! Buona giornata! La prossima volta combatterò! Ragazzi, a che ora è la colazione? Cosa? Hai fame? Sì! Ora ti do da mangiare! Scusa, cicciottello! Devi dividere il tuo pasto! Ecco la tua colazione! Buon appetito! Sembra farina d'avena! Ma quanti anni ha? Uno? Due? Uh! Che schifo! Mangiala tu! Oh! La mia gamba! Allora rimani affamata! Oh, il solito Taylor! Anche i piacchi d'avena possono essere deliziosi! Bisogna solo sapere come cucinarli! Cuociamoli a vapore in acqua bollente! Aggiungiamo della marmellata di fragole! E ora un po' di frutta! Facciamo una bella faccia per non sembrare noiosi! Nessuno ha ancora ripetato del porridge così buono! È un capolavoro! Torno subito! Il porridge alla Mike è pronto! Wow! Sembra buono! È gustoso! Buon appetito! Delizioso! Me ne lasceresti un po'? Ok, non sono tirchia! Puoi finirlo, amico! Sento il profumo del caffè! Un espresso mattutino appena fatto! Giusto una tazzina! E un dessert per il buon umore! Pommi! Ti ho fatto il caffè! Per me! Grazie! Gnammi, gnammi, gnammi! Farina d'avena deliziosa! Agente, grazie! Non ho mai mangiato un porridge così buono in vita mia! Grazie! Davvero grazie! Cosa? Prova a ripetare questo! È disgustoso anche da guardare! Oh, la mia gamba! Un prigioniero è scappato! Allarme! Ancora quel burlone, immagino! Om, gnam, gnam! Questi ragazzi sono divertenti! E adesso che faccio? Povero amico! Te l'ho detto di non scherzare con il sistema di allarme! Va bene, li prenderò da solo! Ehm, ciao! Certo! Prima trasformano la stazione in una discarica e poi... Ehi, ehi! Calma, donna! Gambe in alto, sì signora! Io devo pulire dopo questi porci! Piccoli maialini! Interessante! Pommi! Sì, ti conosco, eh? Sono io, la tua penna Alice! Sono qui per salvarti! Alice? Giusto! Non funzionerà! Mi prenderà e mi riporterà indietro! Ho un piano! Stai stessa! Che cos'è? È una colla superpotente! Dammi solo un paio di minuti e sarai libera! Wow! Fidati di me! Beh, questa è una mossa intelligente! Fatto! E ora? Andiamo! Non è una donna delle pulizie! È quella bambina! Un momento, signore! Ha funzionato, Alice! Sei un genio! Prova solo a scappare! Non te la permetterò! Stupido poliziotto! Ti sta bene! Bene pentirete! Andiamo, Alice! Oh no! Sì! Ora sei in trappola! Oh, ehi! Che ci fai tu qui? Beh, serviti pure! Eh, grazie! Sono stato via solo cinque minuti e... Agente Mike, sono rimasta bloccata! Questa cattiva ragazza! La signora Taylor sta pulendo! Tutti quelli del nostro dipartimento dovrebbero vederlo! Il capo lo adorerà! Aiutami! Ok, ok! Molto divertente! Come sta la nostra criminale? Ancora dorme? Perfetto! Ehi! Molto divertente! A proposito, questi occhiali mi donano! Buongiorno! Oh oh! Vergognati! Ehi, pagliaccia! Alzati! Avanti! Alzati e fai la brava! Mi stai ignorando, eh? Va bene! Allora te lo sei meritato! Che cos'è? Una rivolta? Ok, ora ti sveglierò io! Ehi, è strano! Non c'è nessun criminale! È scappata! Allarme! La prigioniera è scappata! È vuoto! Non voglio essere licenziato! Silenzio! E ora andiamo al sodo! Mikey, Mikey! La prigioniera Pam mi è scappata! Mike, che facciamo? Rilassati! Cosa? Ora tocca a me! Prisa! Oop! Oop! Adoro il badminton! È sempre molto divertente! Basta! Ha rovinato la nostra partita! Stavamo giocando! Questa prigione non è un campo estivo! Giocherai quando sarai libera! Ecco fatto! Ora non mi troveranno mai! E i documenti? Sì, va bene! Ho capito! Devo distruggere questo dossier! Brucia parte in fretta! E mercoledì scomparirà! Perfetto! Ma voi non fatelo in casa! E ora è meglio che me ne vada! Che sta succedendo? Stiamo andando a fuoco? Non ci credo! Ci è mancato poco! I poliziotti sembrano avere cose più importanti! Benvenuta in prigione, mercoledì! Che ai mercoledì ti sei messa in un bel pasticcio! Propongo di buttarla dietro le sbarre! Allora, la batteria è morta! Qualcuno ha incasinato di nuovo la fotocamera! Oh, che dilettanti! Oh, credo che le cose che ci servano siano qui! Buongiorno, mademoiselle! Che accento! Fidati della mia esperienza! Ti regalerò il miglior servizio fotografico della tua vita! Ecco, una foto a figura intera! Fai uno sguardo misterioso! Oh, bello! Pensavo che i dinosauri si fossero estinti! Che idea sciocca! Dai, posa ancora per Mike! Che turista recidiva! Oh, sto andando a fuoco! Ho sempre sognato di fare il fotografo super! E ora tutti mi odiano! Perfetto! Ops! Sembra che Taylor sia in preda alla rabbia! Le foto non sono ancora pronte! Hai trasformato l'aria in uno studio fotografico? Stop! Oh, che casino! Solo mia nonna mi aveva visto in mutante! Oh! Le farò da solo, non è un problema! Ma dov'è il pulsante onno? Ah, certo! Avanti, fai una bella faccia, Adams! Oh, lo sapevo! Congratulazioni per la nuova sistemazione! Puoi scegliere il letto che preferisci! E io sceglierò un vestito per te! Che schifo! Puzza, non lo metto! Cosa? Non pari caso a Taylor! È scontroso ma buono! Questa tuta è lavabile solo a secco ed è tutta tua! Ok! Era su misura per un elefante che se n'è appena andato? Ok, andiamo! Ti personalizzerò io il vestito! Ti starà benissimo! Ecco un'altra sfida creativa! L'adoro! Farebbe meglio a stare attento con quelle forbici o... Mercoledì! Fidati di me! Questo è il mio millesimo costume! Fatto! Come ti sembra? Ti sta bene, no? Il colore ti si addice! Basta con i convenevoli! Adams sta scontando la pena e io ti tengo d'occhio! Hai sentito? Andiamo e basta! Non osare scappare! Taylor è un po' cattivo! Non farci caso! Andiamo, poliziato cattivo? Andiamo a prendere le ciambelle! Io ne voglio una alla vaniglia! Quei guastafeste se ne sono andati! Beh, il piano di fuga non sarà troppo difficile! hanno lesinato sulle parretti a colpa loro! Ops! La sirena non faceva parte dei piani! Ferma! Rimanete tutti al vostro posto! Polizia di Trum Trum! Aspettate! Il loro è solo Wendy! Voleva liberarsi! Nessuno è mai riuscito a fuggire dalla nostra prigione! Per questa volta ti perdoniamo! Muoviti! Torna in cella! Sono qui! Sei contento ora? Le precauzioni non sono mai troppe! Spostiamo le sbarre così non riuscirai più a passare! Ottima idea, amico! Ci proverò anche io! Faresti meglio a non metterti così in imbarazzo! Tutto bene! Chiamate un medico! Ho capito! Questo era il piano! Sei un tipo tosto, fratello! Ciao! Sto salvando la mia forza muscolare! Ma sai? So fare cento flessioni di panca! Oh socio! Hanno portato il cibo! Facciamo una pausa! La collezione dei cattivi è impressionante! E scia al timone! Un hamburger nell'edificio! Perché aspettare? Mettila qui! E come hai chiesto, cipolle extra e coca cola con ghiaccio! Oh che bello! Aspetta! Prima di mangiare dobbiamo dire una preghiera altrimenti il cibo non sarà digerito! Grazie, sceriffo Wharton, per questo cibo! Che il suo destino sia risparmiato dalle sparatoie in strada! Oh, basta! Si prenda una pausa, sceriffo! Oh, il mio hamburger! Nom, nom, nom! Oh, doppio formaggio! C'è un odorino di cibo! E il mio stomaco è vuoto! Ehi! Quando arriva il mio pranzo? Oh, giusto! C'è un hamburger anche per te! Fermati! Non avere fretta! Adam, sei fame? Ecco l'ordine speciale per te! Fammi vedere! Farina d'avena! La sbamba della prigione sarà il tuo pranzo! Bene! Mano! Scusate, signore! Devo proprio andare! Sì, cara! Aggiungiamo un po' di pepe ai drink di quei poliziotti e ecco una fialetta per te! Consideralo fatto! E per cena le darò delle bucce di cetriolo! Oh, sì! Taylor! Sei un poliziotto cattivo! Ma mai cattivo come me! E berrà l'acqua del rubinetto! Oh, beh! Sembra che non se ne siano accorti! Buon appetito! Forza dell'ordine! Io me ne vado! Ottimo lavoro, amico! Batti il pugno! Oh! Questa Coca-Cola è strana! Che schifo! È vero! È amara! Ci siamo trasformati in ragazzi con i capelli lunghi e tacchi alti! No, no, no! Questo no! Non può essere! Che bellezza in uniforme! Chiaramente quell'Adams ha usato un po' di magia! Sono d'accordo, fratello! Tieni duro, tenebrosa! Sei spacciata! Sì, facciamole vedere! Mercoledì è opera tua! Fai tornare tutto come prima! Blah, blah, blah! Oh, ok! Ho finito! Ciao! Ora sì che sei nei guai, Adams! Che schifo! Mi fa stare male! Mi sono riposata abbastanza! È ora di alzarsi! Apriamo le tende! Giusto, mi ero dimenticata di questa trasformazione! Taylor e Mike si sono abituati rapidamente ai loro nuovi corpi! Che grazia! Oh, forse no! Che c'è di così difficile nel camminare con i tacchi? Wendy, facci tornare come eravamo! Dacci l'antidoto! Avanti, per favore! Noi ti lasceremo andare, te lo promettiamo! Bene, ecco qua! Questi sono gli antidoti! Oh, finalmente! Bevete! Ci ha ingannato di nuovo! Oh, pensavo che vi sareste divertiti, ok? A quel vero antidoto! Questi colori di baci sono fastidiosi! Ora va meglio! Strano! Non capisco! Oh, mercoledì! Hai esagerato, Adams! Vuoi per caso una condanna all'ergastolo? Ok, non fare rumore! Bevi e non sporcarti! Anch'io sono stanca di tutto questo! Oh, va bene! Proviamo un approccio diverso! Fratello, apri la cella! Che stai facendo, Taylor? Proviamo la pozione su di lei! Non avvicinatevi! Apri quella bocca! No! Apperra questa tenebrosa! Oh, presa! E non pensare di opporre l'esistenza! Bevi! Oh, lo sapevo che era un altro trucco! Oh, sei spazzato! Hai risvegliato la tigre che è in me! Ora basta! Veramente time out! Ho appena iniziato! Vuoi davvero continuare? Cerca di darti una calmata prima che sia tardi! Vuoi essere davvero libera? Quella è l'ambita porta! Ti propongo un accordo! Dacci le giuste pozioni! Appare fatto! Ma è che ingoialo velocemente! Sono stanca del rosa! Oh, finalmente! Urrà! Tu non hai visto niente! Anche se sei una brontolona, grazie mille! Il nostro accordo è valido! Sei libera, cancelleremo il dossier! Ma non fare altri scherzi! Starò attenta! E adesso che facciamo? Dovete pulire! In che diavolo avete trasformato questa cella? Pronto? Arriviamo! Rapina in banca! Capo un'altra volta! Ora ci aspettano? Sono felice che tu mi abbia aspettato! Aspetta che stai facendo! Metti giù quella torta! Rubare è sbagliato! Giù le mani ha detto! Ops!